Ciao, siamo qui con Chiara Gandolfi, che è la nostra docente digital update di copywriting per il web. Subito una domanda, una domanda difficile. Cosa si rischia adesso a non sapere scrivere per il web? Perché qui uno dice, ma il web è tutto immagine, la scrittura è morta, la gente non legge, ma invece alla fine ci troviamo sempre a leggere e a scrivere. Beh, il problema fondamentale o forse la cosa bella è che siamo tutti creatori di contenuti e quindi oggi non possiamo permetterci di scrivere cose sbagliate in maniera sbagliata. Per cui in realtà siamo tutti degli apprendisti pubblicitari che dobbiamo attirare l'attenzione delle persone e sui nostri contenuti. Quindi è veramente fondamentale saper scrivere, saper attirare l'attenzione delle persone. Quindi mi stai dicendo che è un po' come fare pubblicità ma senta l'odio che l'agente mente contro la pubblicità. Cioè tu insegni un po' a fare pubblicità che alla gente piace? Esatto, una pubblicità che si basa su quelle che sono le cose belle della pubblicità, cioè le idee. Quelle cose che poi alla fine possiamo utilizzare su tutti i mezzi e che se sono buone riusciamo a declinare veramente su tutti i mezzi, in tutti i modi e sono le nostre risorse, le nostre verità. Mi dici due cose proprio banali, ma no banali no, ma pratiche che uno si porta a casa da questo corso e mi dice adesso vado a casa, accendo il computer e faccio qualcosa. Beh, sicuramente venire al corso, tu hai detto una cosa importante, una parola importante che è la pratica. In questo corso facciamo molta pratica e lanciamo moltissimi stimoli che poi a casa possono essere approfonditi. Quindi il fatto di averli fatti in aula è un po' un fissante, no? Avere l'esperienza dell'aula, l'energia dell'aula, ti mette in moto poi la voglia di fare e quindi ti fa venire veramente voglia di metterti in gioco, tornare a casa e dire ok, adesso scrivo e ce la faccio. Ben convinto. Arrivederci, qua sotto c'è la data del prossimo corso con Chiara. Ciao! Ciao!